I gialli nello studio, i romanzi d'avventura in salotto, i manuali di ricette in cucina, i racconti per ragazzi nella camera della figlia e la fantascienza all'ingresso. Ogni genere letterario ha un posto preciso nell'appartamento di Christian Scalambra. Il 38enne guardamigliese, infatti, conserva tra le mura domestiche quasi 25.000 libri rari e preziosi, tra cui le prime edizioni di titoli che hanno fatto la storia. Un esempio, Pinocchio stampato nel 1883, oppure Dracula, l'uomo della notte, del 1922. Ho iniziato a collezionare le prime edizioni perché non trovavo più in libreria libri da leggere, libri che erano già stati stampati e quindi ho iniziato a girare le case, a cercare nei vari mercati libri ormai introvabili. E da qui il libro antico. Questo libro sul tavolo l'hai acquistato proprio stamattina, di cosa si tratta? È un romanzo fantastico di Luigi Motta, un italiano emulo di Salgari. Questa è una bella legatura, è pulito, è fresco ed è illustrato. È molto piacevole da leggere. È un libro che si può consigliare tranquillamente anche a ragazzi di 15-16 anni. Sono quelle letture non impegnative ma che comunque fanno viaggiare la mente.